La disinformazione sta diventando un problema grave nella guerra in Ucraina. A denunciarlo è la Croce Rossa Internazionale, che sta combattendo contro notizie e resoconti ritenuti fasulli, che ne stanno complicando il lavoro sul campo. Stiamo assistendo ad attacchi deliberati e mirati, che utilizzano false narrazioni e disinformazione per screditare la Croce Rossa Internazionale e questo ha il potenziale di causare un danno reale per i nostri team e i nostri partner del movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che lavorano sul terreno e per le persone che serviamo. Tra le accuse che l'organizzazione ha negato c'è il presunto coinvolgimento nelle evacuazioni forzate a Mariupol. Il Consiglio Comunale della città aveva affermato che circa 15.000 persone erano state portate in Russia contro la loro volontà, con i documenti di identità requisiti. Bollati come inesatti anche i rapporti secondo cui la Croce Rossa Internazionale starebbe progettando di aprire un ufficio nel sud della Russia per smistare i rifugiati dall'Ucraina. Allo studio ci sarebbe in effetti l'apertura di un ufficio a Rostov, ma senza alcuna contiguità con deportazioni o evacuazioni forzate. Presente attualmente in 10 località dell'Ucraina, la Croce Rossa Internazionale ha voluto sottolineare come l'azione umanitaria per sua natura imparziale e in quanto tale deve essere rispettata.